Salone del camper 2016 stende la mobilvetta siamo con Ornello Vittorio Allora Ornello Vittorio vi abbiamo conosciuto durante il corso di guida sicura della mobilvetta sono passati due mesi siete sani e salvi vuol dire che comunque danni non ne ha fatti allora intanto voi lo consigliereste un corso di guida sicura? Allora io parlo da donna assolutamente sì perché è stato istruttivo ci hanno dato tantissime informazioni necessarie indispensabili che tra l'altro non conoscevamo ci hanno aiutato a togliere tutti quei vizi di guida da vecchi patentati e quindi assolutamente sì lo consigliamo non solo ai camperisti ma anche a tutti i ragazzi che prendono la patente per la prima volta perché aiuta veramente a risolvere tantissime situazioni e anche a salvare la vita probabilmente assolutamente e lo dico anche pensando a tutti quei camperisti che ogni tanto mi sorpassano ai 160 l'ora in autostrada con la freccia e i fari abbaglianti che lampeggiano lasciate perdere non lo fate fatevi piuttosto un corso di guida sicura perché frenare i nostri diciamo 35 quintali non è così semplice e veloce e immediato così come frenare un'automobile in caso di emergenza allora qui mi possiamo chiedere lanciamo un appello a Mobilvetta a Caravane Campo e Gran Turismo per rifare questo corso e soprattutto posso chiedermi una cosa di te mi siete d'accordo non potrebbero i concessionari metterlo di serie ogni volta che vendono un metro? punti di domanda? sì 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 assolutamente lanciamo un appello a tutti i concessionari a tutte le case costruttrici di camper e a tutti i concessionari logicamente che lo vendono per aggiungere come pacchetto nell'acquisto di un mezzo un corso di guida sicura grazie anche tra l'altro non solo a Mobilvetta ma anche a quattro ruote perché gli istruttori ci tengo a ribadirlo sono stati bravissimi e hanno avuto tantissima pazienza sì sì io ero testimone è stata una cosa incredibile cioè io una pazienza così con me stesso non l'avrei mai avuta cioè mi sarei mandato a quel paese da solo è vero molto prima vero? certo sì ok quindi speriamo che l'anno prossimo Caravane Campo e Mobilvetta facciano di nuovo questo corso che quattro ruote abbia lo spazio e il tempo per poterlo fare e grazie di tutto a tutte e due grazie a voi grazie a voi